L'armonia dei corpi vede nascere un nuovo capitolo. Nella saga della bellezza essenziale, nuda, c'è un secondo episodio in cui sveliamo una collezione unica che va oltre i colori della carne che in tantissimi hanno amato. Andiamo oltre i colori, le forme e la bellezza, talmente tanto oltre che andiamo all'essenziale della bellezza stessa. Nascono così tre nuove Berarmoni, palette di ombretti dalle colorazioni ricercate come le texture stesse. Ciao, sono Beatrice e mi occupo di sviluppo prodotto in mesauda e sono qui per raccontarvi tutte le caratteristiche di queste nuove e bellissime palette. In ognuna sono presenti tre colorazioni in texture matte, caratterizzate da una sensorialità estremamente burrosa e dall'altissima pigmentazione, facili da applicare e facili da sfumare. Gli shimmer hanno un finish brillante e luminoso, dai svariati riflessi unici, valorizzati al massimo se applicati con il polpastrello. Per finire troviamo una nuova formulazione, caratterizzata da una base ricca di perle coscaglia contrasto, questi colori, se mescolati assieme, vanno così a creare una nuova tonalità, dal finish brillante, bagnato e metallizzato. Vediamo tutte le colorazioni nel dettaglio. Tender Mauve, palette che racchiude all'interno tutte le tonalità fredde del rosa, del malva e del viola. I colori che troviamo all'interno sono Gentle, rosa matte chiaro dalla sfumatura fredda. Aroma, platino metallizzato effetto bagnato dai riflessi rosa lilla. Black Currant, viola melanzana scuro matte. Lovely, rosa medio metallizzato. Blossom, malva medio desaturato matte. Precious, viola orchidea metallizzato. Deep Smoky, perfetta per creare intensi smokey eyes, ma non solo. Questa palette contiene al suo interno tutte le scale di grigio, partendo dal bianco, arrivando al nero, con all'interno anche punti luce estremamente particolari. I colori che troviamo all'interno sono Soffuse, beige matte. Dew, oro chiaro metallizzato. Soothe, nero intenso matte. Misty, platino metallizzato effetto bagnato. Incense, grigio fango matte. Midnight, canna di fucile metallizzato. Cool Bronze, tonalità dorate, bronzo e sfumature di marrone. Colorazioni sempre di tendenza. Le tonalità che troviamo all'interno sono Light Touch, sabbia matte. Delight, platino bronzo metallizzato effetto bagnato. Footage, marrone scuro neutro matte. Luster, oro chiarissimo metallizzato. Tinge, marrone legno dalla sfumatura calda matte. Filling, bronzo metallizzato intenso. Speriamo che questo nuovo capitolo vi sia piaciuto e chi lo sa, magari è solo l'inizio.